Oggi è un giorno troppo importante e profondamente emozionante poter dire tutto ciò che penso attraverso pochi minuti di questa conferenza. Qui c'è troppa gente che merita parole pensate, ripensate e scritte di mio pugno, dopo mesi di silenzi che mi hanno portato a desiderare e sognare di essere oggi qui davanti a voi a parlare nuovamente del giorno del Messia. Oggi il mio cuore arriva da battere dopo tre anni molto difficili e non so di vicenda irracistica. Passati a fare la mia curva ho commesso alcuni errori e pagati abbondantemente, anche quelli di altri. Ma vorrei mettere il punto su tutto quello che è passato e fare solo tesoro di tutto ciò. Ho degli obiettivi, principalmente di costruire un'immagine distrutta da tante ricerche problemi. La volontà di versare fino ad arrivare l'ultima voce di sudore, mettendo a disposizione fino all'esplosimento tutte le energie fisiche e mentali che mi sono rimaste, ripagando in primis tutta la mia famiglia, i miei amici, tutti i tifosi e quindi una città intera che dal primo giorno che ho messo piede a Messina esattamente dieci anni fa e fino ad oggi mi hanno sempre regato amore, affetto, rispetto, ma soprattutto mi hanno aiutato in maniera concreta a raggiungere quei traguardi fascistici e di vita che mi hanno fatto di me un uomo realizzato. Tutto ciò è atto doveroso nei confronti di chi oggi ama e segue il Messina che faccio a prescindere dai risultati. Oggi comincio questa nuova avventura consapevole che sono passati tanti anni da questi momenti e che molte cose non potranno essere mai come il passato, ma ci tengo a dire che il passato fa parte dell'astro del Messina ed io non sono qui oggi a fare passarello, a spogliare quelle pagine da riguardare o a essere riguardato. Sono qui perché ho ancora la volontà e spero, lavorando come gli altri, la forza di aiutare solo e sostanzialmente attraverso il campo a chi, come me, vuole scrivere nuove pagine di storia sulle società. Società nuova che tra enormi difficoltà di ogni genere, composta in più parti e in più ruoli, da amici, da persone umili, che vogliono fortemente dimostrare passione, orgoglio, professionalità, ambizione, serietà e trasmettere a chiunque si avvicinerà a questo gruppo di lavoro un forte senso di appartenenza a questi colori sociali.